Fosmarai, Marai de Marai, Extra Dry. Proseguendo nella presentazione della filosofia di Marai de Marai, ecco la versione Extra Dry. Il suo residuo zuccherino di 15 grammi per litro è caratterizzante nella sua facilità di proposta e accattivante per i palati femminili. Il giusto calice di chi vuol bere in diversi orari della giornata senza crearsi mai il problema di dover andare nella ricerca di prodotti impegnativi. Marai de Marai Extra Dry sarà la vostra giusta compagnia degustandolo come aperitivo o con degli sformatini di riso alle erbe aromatiche o delle stuzzicanti bruschette con fegatini.